Ciao a tutti ragazzi, eccomi qua, finalmente il fottuto postino ha avuto la decenza di arrivare a portarmi su detto gioco, ovvero Remember Me. Purtroppo dovevo arrivare ieri, mi è arrivato oggi, guardate la maglietta che c'era insieme, non so se Capcom c'era fissa delle magliette gialle con questo panda, il panda robotico. Che cazzo c'entra la lampanda? Vabbè lo vedrò nel gioco, vabbè qua c'è la copertina con il culetto della tipa, ci sono alcuni dettagli, purtroppo sto filmando velocemente con l'iPhone perché ho potuto spostare tutto, il disco di gioco e il Neo Paris Pack che qua dovrebbe esserci un codice, ecco, copiatevi il codice, l'avete copiato? Bravi. Bene, questo velocissimo unboxing, oggi non potrò iniziare il gameplay perché non ci sono ma domani magari metterò qualche gameplay di questo giochino. Ciao ciao a tutti da GeneticDNA Grazie a tutti.